Qui mi trovo poco sopra la strada, vi volevo far vedere questa costruzione che hanno costruito. Sembra un grosso tabellone per il reclama, ma calcolate che qua siamo in un bosco. Un tabellone con due, tre, quattro fogli, 4x4, 16 tabelloni di alluminio messi assieme e legati da quella struttura in acciaio, in ferro e qua siamo in mezzo al bosco, cosa diavolo sarà? Ecco, questa è l'antenna del Monte Parodi, una volta c'era solo quella, poi ne hanno costruite altre, su delle altre montagne, soprattutto sono antenne per cellulari, quella laggiù credo, una volta c'era solo l'antenna della televisione, laggiù c'è Spezia e così via. Ciao. In mezzo agli alberi, laggiù in fondo c'è la Spezia, quella lì è l'antenna del Monte Parodi che vedete fra le siepi, questa è la strada che ci porta e questo è il famigerato tabellone sopra la strada, ok, tabellone. Non credo che qua in cima si voglia fare pubblicità, qualcosa di importante, dato che è un tabellone enorme. Proseguo il mio viaggio eh. Ci hanno fatto anche le scalette, poi qualcuno ci ha spagato la rete, vabbè. Ecco laggiù si vede il tabellone piantato in mezzo al bosco, oggi è una giornata davvero bella, non so se si vedrà col cellulare ma di lontananza di qua si vede l'isola d'elva e devo dire che si vede anche molto bene. Si vedono proprio i contorni, si vede tutto. Ok. Grazie.